Su braccio di ferro tra il comune e l'Avis Giungano per la riconsegna dei locali in via San Giuseppe arriva la replica del presidente Ennio Francia, che evidenzia come per quanto attiene l'autorizzazione del piano di zona S7, il sopralluogo tecnico presso la sede Avis di Giungano non è mai avvenuto, in quanto il comune ha messo a disposizione del piano di zona solo la planimetria senza tener conto del cambio di destinazione d'uso avvenuto a seguito del decreto sindacale. A Avis Giungano inoltre è stato offerto un solo immobile comunale situato in località Tremonti, evidenzia ancora il presidente dell'associazione volontari italiani Sangue. Non vi è stato un netto rifiuto riguardo alla sede offerta, ma la piena disponibilità ad accettare a patto che i locali fossero idonei ed in regola. Purtroppo così non è stato, a seguito di un sopralluogo ufficiale non è risultata infatti idonea la struttura per mancanza dei requisiti minimi strutturali come unità di raccolta sangue. Ufficialmente non ci sono stati offerti altri locali, continua Francia. Avis Giungano infine non ha mai potuto pagare le utenze perché non era a conoscenza della quota da versare, nonostante ne avesse fatto più volte richiesta. In conclusione non ci siamo mai sottratti al dialogo, conclude il presidente dell'Avis Giungano, sempre educati, corretti e disponibili verso un'amministrazione che ha spesso allungato i tempi senza darci le risposte e la collaborazione che chiedevamo.